Musica Raffaella Perri, sindaco di Decollatura Siamo qui a Soveria per la prima fiera dell'agricoltura e dell'artigianato organizzata dall'Istituto Luigi Costanzo Allora, questa manifestazione è una manifestazione meravigliosa stamattina siamo qui a festeggiare il cinquantesimo anno di funzionamento di questa scuola di questo istituto professionale che fa parte dell'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo e naturalmente questo è un modo eccezionale per aprire la scuola al territorio per far capire come la scuola può aiutare anche il territorio in questa scuola si sono formati tanti giovani che poi hanno trovato modo di avviare una propria attività nell'agricoltura ricordiamo che tutto il territorio è un terreno fertile quindi pieno di aziende agricole e tanti invece sono andati a migliorare le aziende agricole che erano già in essere di famiglia questo istituto è un fulcro per il territorio così come lo sono le altre scuole superiori l'unico rammarico è che stanno perdendo i loro alunni come sta perdendo cittadini tutto il territorio purtroppo quindi dobbiamo partire dalle scuole per poter rinnovare il territorio e far capire che ci sono tanti pregi, tanti punti di forza e quindi possiamo riportarlo in auge grazie grazie